Ciao a tutti e benvenuti qua su dalle vacche e ho scoperto, cioè ho scoperto, ma avete spiegato che si può seminare l'erba infatti ce l'ho fatta, praticamente guardate praticamente ve la metto al primo stadio, quindi vabbè, fa nulla basta che andate sulla P andate lì in fondo, vedete dovete comprare i mezzi, andate qua paesaggio e selezionate l'erba qua sotto, tipo di terra e adesso vi faccio vedere lo faccio qua che mi toglie l'altro, vedete, vi semina erba e praticamente mi sono seminato erba un po' dove non c'era, tipo qua qui va bene, lo lasciamo così mi piace la texture, però non voglio vedere l'erba e anche qua, perché mi sembrava un po' vuoto poi volendo, anzi quasi sicuramente, la farò anche qua devo ancora studiarmi un qualcosina da fare comunque quest'oggi ho una mezza idea di andare giù in farm cioè allo shop e comprarmi una cosa, lo span di letame la paglia la faccio così che magari boh, potrei farmi una zona di stoccaggio qua è vero, potrei farla adesso diamogli un pelo un attimo l'automatico vediamo un po' se tra le mod c'è silos, stoccaggio, eh no, c'è l'altro capanno che avevamo usato oppure usiamo una trincea perché no, una trincea, li buttiamo dentro bene bene, allora dimmi che non no cavoli, dobbiamo venire in giù dopo vabbè dov'è che la trincea è questa qua vabbè dai, è anche abbastanza veloce ah, qui è vuoto così tra l'altro io vorrei farmi una strada per venire giù più velocemente quasi quasi sarebbe una cattiva idea in teoria è... ah, di qua perfetto potrei metterla tipo qua ok, qui la farm io me la piazzo qua adesso vedrete la cavolata che gli rimane dentro l'erba adesso mettiamo la più qua più lontano possibile porca vacca che cretinata che ho fatto andiamo a vedere 20.000 euro di costruzione sì, abbiamo fatto una cavolata mi sa eh, vedremo dopo dai se sarà una cavolata o no per me potrebbe essere carina come cosa eh, perché sì queste cose di mod boh, non c'è sempre sto problema allora, di andare qua ok allora andiamo con la X che scolpiamo il terreno devo diminuirlo parecchio allora, com'era? con il tasto in mezzo levigare livellare il terreno può essere modificato perfetto vediamo un po' se vendendola mi cambia qualcosa 7.500 mi hanno fatto una gran cavolata vabbè, almeno abbiamo la sagoma guardate il lato positivo io praticamente qua inizio a levigarmi il terreno faccio ah, cavoli, non possiamo ve la facciamo più da questa è un bel problema ognuno sì cioè, ok che non è il nostro terreno però vabbè, la metto nell'altro senso chi se ne frega anzi no la metto qua così, ok lì ho sistemato poi vabbè manovra per il campo ne abbiamo sì tanto non è sto pezzo qua che ci dà problemi ok ora andiamo a vedere se riusciamo a fare il nostro cosa però voglio vedere un attimo in varie cosa si trova ah, un trigger ok, niente decorazioni no capanne eh, c'è quella che abbiamo su in farm però no, io voglio questa qua che è all'aperto ok brutto perché si bagna tutto però vabbè e rimetterla qua così ed è perfetto se non fosse per quel po' d'erba che si vede però non è un problema cioè in modo che veniamo qua col nostro caro ci scarichiamo i balloni poi se ne abbiamo bisogno li portiamo su direttamente dalle vacche guardate che sì dai ci sta come cosa qua magari mettiamo un capano qualcosa torniamo noi noi dovevamo trebbiare oggi eccoci qua sulla trebbia questo campo mi sa che non è fertilizzato tra l'altro no dai uno stadio ce l'ha vabbè dai andiamo poi avanti sì il mio intento lì di rimuovere gli abeti alla fine non l'ho più fatto però vabbè non importa costa parecchio livellare il terreno non avete idea infatti il resto non mi sono reso conto di quanto ho speso per fortuna davvero per fortuna vabbè già che ci sono ora potrei lasciamo andare questo con l'automatico no dai devo ancora mi conviene falciare cioè falciare scusate trebbiare un po' e poi dopo la mettiamo con l'automatico se no non ha senso perché voglio andare anche a raccogliere la paglia ah pian piano fidatevi che ne facciamo di soldi allora abbiamo 40 sì ecco la vendita delle colture per ora la tengo normale cioè scusate facile in modo da guadagnare molto di più che fa molto comodo sia a me che alla serie nel senso tempistiche perché stiamo andando parecchio rilento non so se avete notato però davvero siamo molto rilento di campi ne abbiamo tre fate conto siamo a 40 episodi ho investito tutto in altro in mezzo più che altro però dai sono dei belli sono dei bei investimenti comunque abbiamo vabbè 40 4 8 12 16 160 mila euro che non ci fanno schifo poi se vi ricordate dove hanno ah no cavoli mi sa che no sono tutti pronti i campi quindi volendo mi potrei potrei chiedere un prestito dalla banca cioè potrei simulare un affitto dei campi che però alla fine andiamo soltanto a raccoglierli e poi abbiamo le culture tutte per noi che anche lì non ci fanno schifo diciamo che alla fine le culture si vendono ok abbiamo il fatto del trasporto però chi se ne frega cioè a noi va bene comunque stavo guardando prima ok devo dargli la calce a questo campo tanto abbiamo il caso per la calce poi ecco vorrei come campi vorrei riuscire a riprendermi gli altri due però acquistandone un altro in più quindi devo fare un po' di soldi adesso tra farming the crew ho da fare un sacco di soldi ovunque comunque ho già pronto un video per the crew che uscirà vabbè oggi per voi sarà venerdì quindi potrebbe uscire sabato o domenica cioè lo farei uscire sabato io perché ce l'ho lì pronto io soltanto editarlo però per sabato vorrei far uscire un altro video di farming magari su questa serie ancora però no devo portarmi troppo avanti un'altra serie di farming se caso la poland mi sa di no perché anche lì devo portarmi avanti un sacco e vedrò vedrò poi altrimenti ovviamente vi porto sabato il video di the crew mentre domenica magari non porto nulla boh non aspettate direi di scaricare un attimo la trebbia che è bella piena ok accendi il motore a sto new holland si farà fatica perché è già un botto di ore sto mezzo però il piccoletto si fa rispettare allora spero vi possa essere piaciuto il fatto dell'episodio di ieri sulla poland non avete letto molto di cambiare mappa e alla fine l'abbiamo fatto perché l'altra c'è bella grande mi serviva una mappa bella grande però non era proprio dettagliata come la res res adesso non mi ricordo bene come si chiama comunque quella che mi avete consigliato ma ecco devo ancora trovare il tempo per guardarmi la presentazione di killer per scoprire un po' com'è perché non ho proprio avuto tempo ma mentre noi siamo qui con sto mezzo che se lo vendiamo ce ne possiamo comprare un paio di panigale anche v4s anche di più di un paio il trattore vale 300.000 quanto vale? vale 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 200.000 quindi possiamo prenderne solo 4 e abbiamo 28 no forse un po' di più quindi 4 8 12 16 5 e poi abbiamo lì 28.000 euro per boh per prenderci poi una macchinina decente cioè decente anche onesto poi che cavoli ce ne facciamo di cioè che cavoli me ne faccio di 5 moto uguali no piuttosto ne compro altre tipi di moto ecco mio budget iniziale per iniziare a comprarmi delle moto 200.000 euro sarebbe l'ideale perché voi non sapete ma io sono invasato di motori adesso dei trattori magari in realtà un po' meno perché lavoro meno in quel settore però vabbè non che lavoro in settore automobilistico però mi sta appassionando un sacco andare a vedere le gare cose così e ho dei progetti in mente tipo quella magari in futuro o di aprire o di portare qua su questo canale video di auto e moto tipo nella mia vita quotidiana ma soprattutto voglio ho dei progetti in mente su delle moto magari da sistemare da configurare ad esempio fargli le grafiche proprio fatte da me e poi ho un progettino non so ancora bene che moto auto l'esempio moto vorrei comprarmi una moto ma non so bene se prendermi una sportiva un po' vecchia tipo un 600 la cioè che ho in mente io è la Z cioè scusate la Ninja 636 del 2004 mi pare il modello perché quelle prima non mi piacciono quelle dopo non mi piacciono perché quelle prima ecco non mi piacciono per come è fatta la moto la carrientura mentre quelle dopo non mi piacciono perché lo scarico sotto la sella però vabbè ci può anche stare volendo oppure stavo pensando a un motard che lì va bene è indifferente un qualsiasi motard perché alla fine non ne ho mai guidati sarebbe il primo motard mentre Enduro no ce ne ho già uno quindi non me ne faccio nulla poi non lo uso neanche tantissimo in Enduro perché è un 125 quattro tempi e ci starebbe come cosa però già avere i soldi si fanno tante cose cioè non è che avere i soldi sei felicissimo quello non è proprio scontato però del tipo ti aiutano ad essere più felice però se devi avere i soldi per comprarti delle cose ok ti diverti è tutto però è cosa importante è avere persone con cui ti trovi bene ecco poi vabbè i soldi ti aiutano a fare tante altre cose ad esempio se sei milionario e vuoi comprarti un'auto bella bella una Koenigsegg Regera no Aghera R beh te lo puoi permettere ti renderesti uno piccolo sfizio piccolo sfizio da non mi ricordo quanto costa però un milioncino tutto e non sarebbe ma è la mia auto preferita adesso mi confondo sempre o Regera o Aghera comunque la prima quella del tipo 2011 2012 ma è piena la trebia vabbè però io sto più coi piedi per terra e se dovessi prendermi un'auto sportiva cioè un po' con un po' di cavalli opterei infatti tra un po' mi vedrete no scherzo tra un po' ho appena preso la prima auto e tipo da tre mesi però opto già per cambiarla però prima è meglio che lavoro un po' no comunque opterei per una GTR vecchia perché con la nuova è fattibile però devi fare un sacco di sacrifici nel senso non dovrei spendere nulla per tipo dieci anni di lavoro circa e vabbè tipo mangiare e mangio quindi spendo qualcosa per il cibo quindi quella no quella vecchia la R34 anche la R33 però la R34 sarebbe il top cioè puoi andare a prenderti la metti che conosci una tizia gli dici di uscire passi sotto casa sua fa per salire gli fa per salire a destra e tu dici che fai io sono a destra che guido e tipo lei si prende malissimo no oppure la più recente che ci sta anche la GT86 sempre Nissan anche quella non è male non so quanti cavalli ha però 200 tutti poi vabbè sopra i 200 sono tutte belle potenti e niente vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto raccoglierò la paglia e la porterò vabbè un po' ai cavalli poi la stoccherò lì mi sarebbe interessato far vedere la raccolta paglia però magari ve lo faccio vedere prossima volta cioè nel senso vi faccio vedere prossima volta come le ho scaricate i balloni e nulla qui vabbè lasciate indietro ma non preoccupatevi noi ci vediamo domani con un nuovissimo video o su farming altrimenti su The Crew 2 e nulla ciao a tutti e al prossimo video